Se prima la filatelia era una passione che riguardava poche persone, in questi ultimi anni, sta appassionando anche i più giovani. Ormai, collezionare i francobolli è una disciplina molto importante perché può farvi guadagnare anche tanti soldi. Ad esempio, lo sapete che se avete questo francobollo italiano potreste avere ben 21.000 euro in tasca? Scopriamo di più! Sempre più persone stanno intraprendendo la strada della filatelia. Una disciplina incredibile che appassiona chiunque. Il motivo? Sicuramente la storia del francobollo è veramente interessante. Non tutti sanno che raccogliere i francobolli è uno degli hobby più amati e popolari del mondo, addirittura, esistono più di 20 milioni di collezionisti. Potrebbe essere un'opportunità incredibile, dato che un solo francobollo potrebbe farvi intascare tantissimi soldi. Ad esempio, il francobollo di cui vi vogliamo parlare oggi, vale 21.000 euro, lo possiedono sicuramente tantissime nonne italiane, scopriamo di più. Francobollo italiano vale 21.000 euro, la filatelia è la disciplina che accumula sempre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.